E buonasera, sono Silvana D'Alessio, responsabile del team ricerca e sviluppo biodigitale di Polifarma, un'azienda farmaceutica con più di 100 anni di presenza e attività in Italia. Aree terapeutiche di interesse nelle quali Polifarma è a fianco degli operatori sanitari a supporto della salute e del benessere dei pazienti, sono diverse e tra queste annoveriamo la gastroenterologia, l'oftalmologia, il sistema nervoso centrale e da più di 40 anni in cardiologia. Sono lieta di partecipare e presentare brevemente il progetto di ricerca e sviluppo che in partnership con Davi Digital Medicine riguarda la terapia digitale per l'ipertensione arteriosa. Polifarma, un breve scursus, è una società che si caratterizza per la dinamicità, per l'apertura all'innovazione, uno sguardo sempre attento alle evoluzioni tecnologiche, senza però dimenticare i principi fondanti e le esperienze maturate fin qui. Queste sue peculiarità le hanno consentito negli ultimi anni di andare anche a revisionare i propri processi operativi aziendali in accordo a quanto le innovazioni tecnologiche hanno consentito e nello stesso tempo anche di aprirsi e stringere collaborazioni con società di sviluppo, start-up, università, con lo scopo proprio di valutare le possibilità di procedere con la trasformazione digitale della salute e in particolare delle modalità di diagnosi, di terapia, di monitoraggio delle malattie stesse. Un esempio recente risale proprio allo scorso anno quando si è stato costituito la divisione ricerca e sviluppo digitale e in più Polifarma e la start-up Davi Digital Medicine hanno sottoscritto un accordo di partnership, ognuno con le proprie competenze, proprio per rinnovare il trattamento di malattie croniche ad elevato in patto sociale. Ma le malattie croniche perché sono importanti? Perché sono in realtà note che sono la causa più importante di mortalità e di sofferenza per le persone e per la gestione che ne comporta, che comportano un costo notevole e si estende con i fatti negativi a livello di tutta la società perché causano povertà, ridotte capacità lavorative e quindi interferiscono con la crescita sociale, personale e la prosperità economica del paese. E proprio il primo progetto di terapia digitale e sviluppo di Polifarma con Davi Digital interessa proprio il trattamento dell'ipertensione arteriosa che è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare e nonché causa di aggravamento di ulteriori patologie croniche. Infatti è il fattore di rischio maggiormente associato ad ictus, infarto, neurismi, nonché malattie proprio legate all'invecchiamento. E nonostante la disponibilità di vari trattamenti, opzioni farmacologiche, purtroppo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi prestori e di controllo rimangono spesso subottimale. E poi a livello globale c'è anche una buona percentuale di ipertesi che sono diagnosticati ma non trattati e anche una percentuale a volte doppia che è trattata ma non controllata. Quindi partendo da questo come si può innovare la terapia delle malattie croniche sicuramente sappiamo ed è una definizione possiamo dire ormai ben nota che le malattie sia croniche che o meno vadano curate con i farmaci però in merito a ciò i farmaci ormai considerati possiamo dire maturi ci garantiscono sicuramente in base al loro uso ormai consolidati alla loro esperienza sicuramente una grande affidabilità associata a qualità, efficacia e sicurezza d'uso. Purtroppo però i soggetti con malattie croniche hanno poi bisogno di apporto di salute che non sempre possano essere soddisfatti solo dall'intervento farmacologico quindi vi è necessità di informazione, di formazione, di monitoraggio della malattia stessa e quindi dei risultati della terapia e quindi a supporto della terapia farmacologica possono venire i dispositivi medici e a questi ovviamente visto sempre più lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle applicazioni ovviamente appunto le applicazioni digitali che quindi ci porteranno a innovare e noi su questo il nostro principio sul quale basiamo il nostro concetto di ricerca e sviluppo digitale è innovare attraverso l'associazione e la combinazione della tecnologia alla base dei farmaci prescritti dal medico, la tecnologia digitale alla base dei dispositivi medici in forma poi di applicazioni che poi possano essere utilizzate direttamente dal paziente. Polifarma insieme a David Digital Medicine intende proprio perseguire l'innovazione della terapia delle malattie croniche attraverso la ricerca e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie digitali. Ma come si può procedere? Qual è il percorso che si è dato il progetto e il team ricerca e sviluppo? Infatti ci si avvale della collaborazione fondamentale con centri di ricerca, con partner tecnologici visto la tipologia di applicazioni e di tecniche digitali e tecnologiche che vogliamo applicare, ma necessari anche gli enti istituzionali, l'accademia, le associazioni dei pazienti, i pazienti esperti. Non a caso il nostro progetto di ricerca si basa sulla guida di un cosiddetto appunto steering committee, un comitato guida che è composto da esperti di diversa estrazione e preparazione che sono medici, medici specialisti, farmacisti, pazienti, pazienti esperti, ingegneri, psicologi, bioinformatici ed è basato proprio sui concetti della participatory design. Quindi Polifarma ritiene e crede fermamente che sia proprio fondamentale la condivisione delle esperienze, delle conoscenze di tutti, dei pazienti, dei loro caregiver, nonché degli operatori stessi. Ciascuno partecipa con le proprie risorse, competenze, conoscenze e finalizzate ad uno scopo comune che è quello di migliorare la salute. Tra i componenti dello steering committee Polifarma con Davi Digital Medicine prevede e ha debitamente inserito e coinvolto il paziente esperto che possiamo definirlo il mediatore culturale tra chi fa ricerca e sviluppo e chi poi utilizza l'applicazione. Infatti il paziente esperto ha una specifica formazione in ambito accademico, conosce entrambe quindi le realtà e quindi si colloca tra queste, riuscendo quindi a mettere in evidenza i bisogni reali, inespressi e a fornire indicazioni che sono fondamentali per lo sviluppo progettuale. Quindi qui vediamo benissimo qual è lo scopo ultimo andare ad ampliare questa pipeline biodigitale che verrà poi resa disponibile nella pratica clinica ai pazienti, agli operatori sanitari e ci si possa ovviamente fare comunicazione e informazione medico-scientifica. Ma entrando nello specifico della terapia biodigitale per il trattamento dell'ipertensione arteriosa, il progetto in sviluppo come vedete si basa sull'idea che il paziente con la malattia cronica possa migliorare quindi la propria condizione clinica con questi interventi che associano appunto abbiamo detto la parte farmacologica e la tecnologia digitale e quindi che gli consentano di controllare e modulare meglio e orientare meglio e modificare anche il proprio comportamento. Quindi l'obiettivo del progetto in sviluppo per l'ipertensione arteriosa è quello di ricercare e sviluppare un candidato digital therapeutic per il trattamento dell'ipertensione arteriosa da utilizzare in associazione ad un farmaco antipertensivo. Chiaramente oltre a derogare l'intervento terapeutico di DTX, quindi di digital therapeutics, il dispositivo in sviluppo integra funzionalità che renderanno migliore l'utilizzo del farmaco stesso antipertensivo, il monitoraggio dei valori pressori fossero solo già questi e in più prevede l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale per un progetto sperimentale poi di predizione del rischio cardiovascolare individuale. Quindi gli obiettivi riassumendo sono sicuramente migliorare la gestione dell'ipertensione arteriosa da parte del paziente, aiutandolo a misurare e a registrare i propri parametri fisiopatologici, ovviamente a favorire il suo ruolo proattivo nella gestione della propria patologia e quindi ad avere una ricaduta positiva sul proprio stato di salute, erogare trattamenti con lo scopo di ottimizzare l'uso e l'efficacia della terapia farmacologica nelle condizioni di vita, di uso quotidiano del farmaco stesso e in più andare anche a modificare il proprio comportamento disfunzionale nei confronti della malattia e quindi il paziente stesso in questo modo andrà a migliorare gli esiti sia dell'ipertensione che del suo stato di salute conseguente. Ma come il progetto riteniamo proprio per le implicazioni che ne comporta, il progetto di ricerca e sviluppo del digital therapeutics procede allo stesso modo a quello che è utilizzato e valido allo sviluppo di un farmaco, quindi nello specifico le fasi di sviluppo prevedono una fase preclinica che comprende una fase di ricerca e di scopere che in questo caso sarebbe lo sviluppo del software del dispositivo medico che sarà poi oggetto ovviamente di certificazione e approvazione regolatoria e una fase clinica che comprenderà uno studio clinico pilota successivamente seguito da studi clinici confirmatori a supporto proprio della verifica clinica di sicurezza e di tollerabilità appari ad un farmaco stesso. Il progetto di ricerca e sviluppo come dicevamo è stato avviato nei primi mesi del 2022 e ad oggi possiamo dirci che è terminata la fase di ricerca e i risultati sono stati divulgati opportunamente alla comunità scientifica proprio a fine dello scorso anno nei congressi nazionali SIA della Società Italiana di Pertenzione Arteriosa e SING, Società Italiana di Medicina Generale. Cosa ci aspetta? Ci aspetta che terminata la fase di ricerca ad oggi siamo partiti ed è stata appena avviata la fase di discovery quindi lo sviluppo del software che rappresenta poi possiamo definire il nostro principio attivo della nuova terapia digitale e contiamo di procedere entro il corrente anno con la definizione del protocollo dello studio clinico pilota per poi procedere successivamente con tutte le fasi previste. Io vi ringrazio per l'opportunità e vi saluto. Buonasera.